Una partita dai due volti, quella con Iseo, un primo tempo difficile, una reazione nel secondo. Cosa è cambiato? Cosa hai detto ai ragazzi a metà partita? Una partita dove siamo stati inguardabili in difesa per i primi due quarti e non seguendo assolutamente quello che abbiamo deciso di fare in attacco. Non c'era da fare una guerra sul loro ritmo ma c'era da fare una differenza a livello difensivo non concedendo i tiri aperti. Una squadra che fa canestro nei primi dieci secondi, sicuramente in una situazione in classifica dove ogni gara la gioca al 100% e noi dovevamo essere pronti a questa situazione, invece abbiamo fatto chi segnava di più. Poi ci siamo guardati nello spogliatoio, in faccia e ci siamo detti le cose che non andava bene, ovviamente quello che stavamo facendo, non avevamo attenzione che dovevamo fare le cose che abbiamo prestabilito e su quelle abbiamo lavorato. Il risultato è che in questo momento loro in quarto gli abbiamo concesso solo dieci punti e abbiamo fatto quello in attacco che ci serviva e abbiamo avuto una scarto anche di 30 punti. Vorrei che anche poi chi viene dalla panchina sia più pronto perché non possiamo avere cali e soprattutto dobbiamo avere un apporto migliore e una presenza di là di infortuni o meno che ormai quelli sono consolidati e quindi dobbiamo lavorare su quelli che siamo. Sicuramente un bel segnale è rientrato Banti, ha dato già qualcosa alla causa. Sì, Diego si era preparato in questi due giorni, si sentiva in grado di giocare, ha voluto giocare, è stato comunque un segno di attacco mentale alla squadra e poi in previsione di 100 comunque ha bisogno di minuti sul campo. Ovviamente è al 40-50% ma io ho grandissima fiducia in lui come l'ho anche in tutti i ragazzi, ovviamente impazzisco quando non hanno presenza mentale e si fanno battere. Quindi benvenga Diego, la prossima settimana recupereremo anche Matteo, credo, inizieremo a recuperare il suo ragno per essere completi. La scelta che abbiamo fatto societari è di recuperarli e di non buttarli dentro prima che ci pagherà nel momento secondo me che conterà.